Inizia oggi a Bolzano Camminarte, un percorso guidato tra arte e natura in occasione del Festival Bolzano in Fiore. Prossimi appuntamenti domani alle 12 e poi il 7 e 8 maggio. Luigina Venturelli. Camminare per la città a ritmo lento di passi senza destinazione stabilita, accompagnati dalle parole di Shakespeare, Prevere Kandinsky, lasciando correre lo sguardo sui colori della natura e su quelli delle opere d'arte del Festival Bolzano in Fiore. Oggi il primo appuntamento con Camminarte, un percorso guidato dai prati del Talver a Piazza Walter, con la regia di Eva Kuen, insieme alla ballerina Sara Merler e agli attori Peter Schoern e Alessandra Lemetti. Questo percorso che diventa un percorso visivo e sonoro ti astrae un po' dal mondo e ti fa guardare anche la città con nuovi occhi. E quindi anche le opere d'arte dove magari si passa e si osservano ma senza cogliere qualche sfumatura anche emotiva, ecco che ti appaiono sotto un'altra luce. Tra le installazioni artistiche il menhir contemporaneo di Bruno Lucchi. Una delle forme più misteriose che abbiano da sempre popolato la terra in tutte le culture e ancora oggi non sappiamo se è solamente un pensiero dell'uomo per far vedere che lui era presente. Grazie.